Musica Buonasera, ben ritrovati nel nostro telegiornale come sempre in diretta. Lo apriamo innanzitutto con un veloce aggiornamento sul fronte coronavirus, rispetto ai nuovi contagi e anche alle misure messe in campo dall'esecutivo per aiutare le famiglie e le imprese. Innanzitutto un veloce aggiornamento rispetto al decreto rilancio perché il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha firmato. Il decreto stasera sarà in gazzetta, è stato bollinato. Da domani le risorse saranno immediatamente utilizzabili, ha affermato il Ministro dell'Economia Gualtieri in un'intervista al Tg1. Ci sarà, ha detto, il pagamento diretto di 600 euro a tutti i 4 milioni di laboratori autonomi, di collaboratori che li hanno già avuti. Questo pagamento avverrà nell'arco di 2-3 giorni al massimo. Gualtieri ha anche detto che da domani sarà possibile fare la domanda per i 1.200 euro per il bonus babysitter o per i centristivi. E poi a giugno ci saranno i contributi a fondo perduto per le imprese, la terza tranche fino a 1.000 euro per gli autonomi. Rispetto invece alla situazione contagi in Italia, stando all'ultimo aggiornamento fornito dal Dipartimento della Protezione Civile, risulta ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, che sono 65.129, 1.424 in meno rispetto a ieri. Il totale delle persone che hanno contratto finora il virus, ossia tra attualmente positivi deceduti, dimessi e guariti, il totale di 226.699, con un incremento rispetto a ieri di 813 nuovi casi, quasi il doppio rispetto al giorno precedente ancora, quando erano stati nuovi casi 451. Da notare però che in merito a questi ultimi dati, gli ultimi tamponi effettuati sono stati a loro volta circa il doppio. Più della metà dei nuovi contagi, dei nuovi 813 casi, risultano in Lombardia. Sempre rispetto a ieri, i nuovi decessi sono 162, che portano così il totale delle vittime a 32.169. Il numero complessivo invece dei dimessi e dei guariti sale a 129.401, con un incremento rispetto a ieri di 2.075 persone. Parliamo anche del Recovery Fund, il Fondo Europeo per la Ripresa Economica. Si parla infatti di questa battaglia politica rispetto alla proposta, dopo la proposta franco-tedesca, per un piano da 500 miliardi di euro da indirizzare verso i paesi dell'Unione Europea più colpiti dalla crisi coronavirus, con fondi rimborsati da tutti i paesi membri. Piano ben visto da paesi come Italia e Spagna, ma con il no del nord europeo. Dunque si prospettano negoziati difficili. Ricordiamo che secondo la proposta franco-tedesca, il nuovo strumento doveva essere finanziato attraverso debito comune UE, con obbligazioni emesse dalla Commissione, poi redistribuito dunque alle regioni e anche ai settori più colpiti dell'Unione Europea, con trasferimenti a fondo perduto. Il Premier Conte si è confrontato telefonicamente con il Presidente francese Macron e con la Cancelliera tedesca Merkel, proprio per preparare il negoziato, su una proposta definita ambiziosa. Il Commissario dell'Economia Gentiloni ha rassicurato da calto suo sulle cifre. Francia e Germania hanno parlato di 500 miliardi di sovvenzioni. Siccome il fondo sarà un mix tra sovvenzioni e crediti agevolati, prestiti di lunga durata, vedrete, afferma Gentiloni, che alla fine non saremo molto lontani da quelle cifre di cui abbiamo parlato intorno al migliaio di miliardi. In attesa di vedere la base di partenza del negoziato, c'è la proposta della Commissione Europea, l'Unione cerca dunque di chiudere sugli altri strumenti. È definitivo il via libera a Sura, è il meccanismo che aiuterà la Cassa Integrazione, mentre sulle garanzie bei alle imprese ancora non si trova un accordo che dovrebbe arrivare, non oltre, il primo giugno. Parliamo altre, ritornando in Italia, ancora di altre tensioni di politiche, perché domani, dalle 9.30, l'Aula del Senato esaminerà le emozioni di sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. La replica del Ministro sarà trasmessa in diretta a TV. Rispetto al voto c'è l'altolà di PD e Movimento 5 Stelle a Italia Viva. Se domani al Senato puntualizzano Italia Viva, voterà la sfiducia al guarda sigilli Bonafede, si aprirà la crisi, perché un voto contro il Ministro della Giustizia, fermano PD e Movimento 5 Stelle, è un voto contro il Governo. Vediamo ora assieme i titoli del nostro telegiornale delle 19.00. Dopo i primi casi di resse all'esterno dei barra di Udine è convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Per il weekend arrivano i tavoli e le sedi in San Giacomo. Dopo due settimane dei primi allentamenti rimane bassissimo il numero dei contagi, con 5 nelle ultime 24 ore, mentre i guariti hanno superato quota 2.300. Prime ripercussioni a causa dell'emergenza, con la contrazione del PIL su base annua, che sarà del 7,1%, soprattutto a seguito di una grave difficoltà nel settore dei servizi. Indagine dei carabinieri della Guardia di Finanza, coordinata dalla DDA, sei arresti, sequestrato un capannone a mossa, tracciata alla provenienza di 4.500 tonnellate di rifiuti. Musso, Nicola, Sperisan e Gasparini hanno svolto una seduta atletica a distanza di sicurezza, e giocatori di movimento hanno aumentato i ritmi, in attesa del via libera per gli allenamenti di gruppo. Domani in prefettura a Udine, all'esame del Comitato per l'Ordine Pubblico e per la Sicurezza, dunque anche la questione assembramenti all'esterno dei locali pubblici. Ieri sera sono stati gli stessi gestori dei locali a denunciare le loro difficoltà nel gestire la situazione a Udine e non solo. Ne abbiamo parlato con l'assessore comunale alla sicurezza, Alessandro Ciani, con il quale abbiamo parlato anche di Piazza San Giacomo, perché entro la fine della settimana saranno messi a punto tutti i dettagli per le sistemazioni di tavolini e sedi proprio sul plateatico del salotto cittadino. Allora, vediamo che cosa ci ha detto l'assessore. Nel corso della serata si sono verificati alcuni episodi sbagliati. Devo dire soprattutto, lo dico con un po' di rammarico, da parte di giovani e giovanissimi che hanno letteralmente preso d'assalto alcuni locali e non hanno rispettato le regole sul distanziamento, ma non hanno rispettato, e questo lo voglio sottolineare, anche i tanti inviti degli esercenti della nostra città che invece si sono, ad esempio questa mattina, molti rivolti al Comune, rivolti anche a me direttamente, per chiedere come devono comportarsi per cercare di risolvere il problema. Noi domani ci vedremo in Prefettura con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine in seno al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per cercare di dotare una linea comune, perché da un lato ovviamente non c'è nessuna intenzione di impedire alla cittadinanza di riprendere una vita che però è una vita quasi normale, perché le abitudini che avevamo fino a due mesi e mezzo fa non potranno essere del tutto riprese. D'altra parte ovviamente c'è la necessità di responsabilizzare le persone, c'è la necessità di responsabilizzare i nostri commercianti, i nostri esercenti, e quindi cercheremo di adottare una linea comune tra la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine per cercare innanzitutto di responsabilizzare le persone. Certo che nel caso in cui ci dovessero essere nuovamente degli episodi particolarmente gravi, dovremmo anche sanzionare le persone che mettono a repentaglio la salute propria e delle persone che incontrano e con cui vivono. Siamo stati adesso in Piazza San Giacomo, la situazione è tranquilla in questo momento, non ci sono tante persone, c'è il giusto distanziamento tra le persone che si siedono ai tavolini, però non ci sono ancora i tavolini e le sedie sulla piazza. Gli esercenti ci hanno detto che attendono il via libera ufficiale, come siamo, a che punto siamo? Già in settimana potremmo avere delle novità, io penso che sia una cosa assolutamente storica che la soprintendenza abbia dato un primo segnale di apertura per quanto riguarda l'utilizzo del plateatico, ci ha dato alcune indicazioni, in particolare il rispetto della vista della chiesa e della fontana che c'è in mezzo alla piazza. Il nostro obiettivo è quello di fare un progetto condiviso ovviamente con gli esercenti e un progetto il più possibile unitario, perché stiamo parlando non solo di una delle piazze più belle della nostra città, ma io devo dire di una delle piazze più belle d'Italia e quindi ovviamente c'è da un lato l'esigenza di venire incontro ai nostri esercenti, ma c'è ovviamente la necessità anche di tutelare la bellezza della piazza. Sono gli stessi esercenti che ovviamente sperano che questa possa tramutarsi da una sperimentazione in un qualcosa di definitivo e che quindi vogliono fare qualcosa di davvero bello per la nostra città. Preferiamo ovviamente aspettare qualche giorno in più ma fare un'operazione fatta davvero bene. Io però sono particolarmente convinto che nel giro di una settimana risolveremo tutte le problematiche che ci sono e che potremo vedere una piazza San Giacomo nuova e che colpirà sicuramente gli occhi della cittadinanza udinese. Assembramenti ieri sera sono stati trovati, si sono effettuati anche davanti a diversi locali goriziani, tanto che in merito a questo è intervenuto nelle scorse ore il primo cittadino Rodolfo Ziberna che ha scritto anche via Facebook non permetteremo a pochi irresponsabili di rovinare la gioia di una città che vuole tornare alla vita. Per tutto il giorno ha rimarcato Ziberna rispetto a ieri, Gorizia è stata attraversata da una bellissima via vai di gente responsabile e consapevole delle necessità di rispettare le regole per evitare il ritorno nell'incubo. Poi verso sera, continua Ziberna, ecco che in alcuni punti, così come è accaduto nelle altre città d'Italia, tutte le regole sono saltate e hanno cominciato a fioccare segnalazioni di assembramenti incredibili. Totale irresponsabilità, continua il primo cittadino. Faccio un forte invito a queste persone, afferma, se non riescono a comportarsi in modo adeguato, se ne stiano a casa, non le vogliamo in giro per la città, continua Ziberna, a rovinare la vita agli altri. Faremo tanti controlli, anche se è chiaro che la polizia non può essere ovunque in ogni momento. Queste persone, conclude Ziberna, non riescono neppure a capire che così facendo rischiano di penalizzare i gestori dei locali che con tanta fatica cercano di ripartire. L'emergenza Covid in Friuli-Venezia-Giulia fa un po' meno paura. Il 70% dei malati della nostra regione infatti è guarito, solo 5 nuovi positive e anche oggi non si registra nessun nuovo decesso. Il punto nel prossimo servizio. Sono numeri rassicuranti quelli in merito all'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Friuli-Venezia-Giulia, dove oggi il numero dei totalmente guariti ammonta 2.230 casi, il 70% del totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza. Dati che però non consentono di abbassare la guardia in quanto i contagi sono ancora possibili. Per questo il presidente Massimiliano Fedriga ha ricordato questa mattina quanto sia importante continuare a fare molta cautela, soprattutto nei comportamenti quotidiani, evitando gli affollamenti. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli-Venezia-Giulia sono 653, 24 in meno rispetto alla giornata di ieri e si riducono a 2 i pazienti che si trovano in terapia intensiva. Quelli ricoverati in altri reparti risultano essere 76, mentre non si registrano nuovi decessi, fermi a 320 casi. Analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3203, 5 in più di ieri, 1357 a Trieste, 973 a Udine, 688 a Pordenone e 205 a Gorizia. La nave ospedale GNV Allegra non arriverà più a Trieste a confermarlo, come riporta il piccolo, è lo stesso governatore Massimiliano Fedriga. Si era parlato molto, infatti, nei giorni scorsi della possibilità di vedere attraccare il traghetto per raccogliere gli ospiti delle case di riposo positivi al coronavirus. Vista la diminuzione del numero di contagi, sono le parole riportate del governatore, l'azienda sanitaria ha deciso di studiare soluzioni diverse. La risposta definitiva verrà data domani, ma andiamo in quella direzione. Edemora Serracchiani, deputata del PD, a seguito di questa notizia, afferma attraverso una nota la città che più di tutte è stata colpita dal virus e che più di tutte è stata trascurata dalla regione, subisce l'onta del cinismo di Fedriga. Certo, afferma Serracchiani, dopo oltre due mesi dallo scoppio dell'emergenza, la nave non serve più, ma non è mai servita. Serviva a intervenire subito, continua la deputata del PD, senza tentare di nascondere quello che succedeva nelle case di riposo, fin quando è stato troppo tardi. Rimane la vergogna, afferma Serracchiani, delle persone abbandonate in strutture da dove bisognava portarle via subito. L'emergenza Covid-19 fa segnare il passo in Friuli Venezia Giulia, con una perdita nel primo trimestre di 8.000 posti di lavoro e una contrazione del PIL regionale su base annua del 7,1% e quanto ha rimarcato l'assessore regionale Alessia Rosolè nel corso dell'audizione compiuta in seconda commissione consigliare. In particolare, l'esponente dell'esecutivo Fedriga si è soffermata su alcuni cambiamenti di direzione che si verranno a determinare anche a livello regionale rispetto a quanto programmato dalla legislazione comunitaria approvata a inizio anno in materia di lavoro. I dati di nostro possesso, appunto detto Rosolè, ci indicano che in quest'anno dovremmo misurarci a livello regionale con una contrazione del PIL, dunque su base annua pari a 7,1%, soprattutto a seguito di una grave difficoltà nel settore dei servizi. Nel comparto dell'occupazione poi, poco rassicuranti segnali provenienti già a fine 2019, si sono confermati nei primi mesi del 2020, anche dunque a seguito dell'emergenza epidemiologica, che ha prodotto in regione nel primo trimestre una riduzione di posti di lavoro pari a 8.000 unità. Non c'è dubbio, afferma l'assessore regionale, che queste variazioni tendenziali diventeranno strutturali per l'anno in corso e che quindi richiederanno misure di intervento su più livelli. A tal proposito, continua Rosolè, si sta operando anche ai tavoli nazionali ed europei per finanziare con fondi strutturali sia la parte riguardante la politica attiva di lavoro e quindi la formazione, sia sugli ammortizzatori sociali. veniamo ora all'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli che ha affermato la contribuzione che nel corso degli anni la regione ha assicurato a Roma prima per alimentare un federalismo fiscale che non si è concretizzato, poi per sostenere il debito pubblico è stata tale da poter chiedere ora uno sforzo importante a parti inverse da parte dello Stato. Barbara Zilli ha sintetizzato così la posizione alla prima commissione del Consiglio Regionali appunto la posizione nei termini della partita finanziaria tra la regione e lo Stato alla luce della situazione determinata dalla pandemia. Vediamo. C'è stato un approfondimento importante ribadiamo le nostre posizioni pienamente disponibili a collaborare ad una revisione dei patti finanziari con lo Stato per affrontare questa emergenza non servono ultimatum serve un dialogo e questo dialogo si porta avanti se il Consiglio Regionale parlamentare i componenti della commissione paritetica remano nella stessa nella stessa direzione. Servono ancora alcuni numeri da approfondire rispetto all'impatto effettivo perché è chiaro che il negoziato non può che partire dall'impatto effettivo del minorgetito fiscale. Il tema dei rapporti finanziari con lo Stato è assolutamente centrale sappiamo bene quante risorse sono mancate al bilancio della regione e oggi chiedere di trattenere qui il contributo straordinario per il risanamento del debito pubblico è una condizione necessaria ma non sufficiente per cominciare a fare davvero delle politiche di tutela del bilancio regionale se non partiamo da qui difficile sarà ragionare sulla fase 2. Ritengo quanto mai necessario che l'intero Consiglio regionale in modo assolutamente trasversario prenda una forte posizione verso questa situazione incresciosa non è possibile che il nostro Friuli Venezia Giulia si veda un cato introito a titolo di tasse per 700 milioni di euro quest'anno e anche dover dare per contribuire al contenimento della finanza pubblica altri 700 milioni credo che sia una cosa assolutamente insostenibile e ingiusta Il mio punto di vista è che l'autonomia si esercita in modo virtuoso in questa regione se continuiamo a farlo tutti assieme e oggi abbiamo avuto conferma dell'importanza di questo lavoro unitario perché diversamente rischieremo davvero di non tutelare le ragioni dell'autonomia soprattutto per quello che può essere lo sviluppo della specialità in questa regione quindi battere i pugni sul tavolo sarà una delle come dire delle condotte che potremo adottare se sarà necessario in questo momento c'è un'interlocuzione stretta preoccupata per la situazione che stiamo vivendo a livello nazionale per questo decreto che non è ancora uscito e non è stato bollinato dalla ragioneria generale dello Stato per cui non sappiamo ancora quante saranno le risorse destinate alle regioni speciali per ripianare alla situazione di depressione del PIL e quindi di minori entrate che abbiamo avuto in questi mesi Parliamo ora di traffico illecito di rifiuti con sei arresti in Fru di Venezia Giulia Veneto e Campania e le indagini da parte della DDA di Trieste vediamo smantellato dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza un traffico illecito di rifiuti a carattere transnazionale collegato al fenomeno delle eco-mafie che ha portato all'arresto di sei persone tra le province di Gorizia Belluno e Napoli le indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale del capoluogo coisontino unitamente a personale del reparto operativo speciale e ai finanzieri del gruppo e del servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata di Roma hanno portato al sequestro di un capannone industriale colmo di rifiuti abbandonati collocato a mossa in provincia di Gorizia e che ha permesso di scoprire lo smantellamento illecito di circa 4.500 tonnellate di rifiuti speciali e plastici provenienti da un impianto di recupero di una società del bellunese da un'area di smessa borovnica in Slovenia per verificare quanto avvenisse all'interno del sito e per monitorare in maniera attenta ma discreta il movimento degli automezzi è stato utilizzato anche un drone che ha permesso di accertare che il trasporto avveniva quasi sempre alle prime ore del mattino e utilizzando dei camion messi a disposizione da alcune compiacenti aziende slovene una volta sequestrato il capannone di mossa le indagini hanno permesso di accertare come i responsabili abbiano cercato siti alternativi sul territorio friulano per poter continuare l'attività illecita l'operazione ha portato all'arresto di 6 persone con le accuse per traffico illecito di rifiuti posti attualmente ai domiciliari e ad un sequestro preventivo di un milione di euro profitto del reato individuato quale danno ambientale numerose perquisizioni sono in corso in Friuli Venezia Giulia Veneto e Campania per recuperare la documentazione necessaria a ricostruire l'esatta provenienza dei rifiuti e le tappe intermedie toccate dagli automezzi il GIP infine nel motivare le esigenze cautelari ha ricollegato la vicenda al diffuso fenomeno delle eco-mafie sottolineando il sospetto della presenza della criminalità organizzata per le evidenti affinità con dinamiche criminali tipiche dell'area napoletana un 81enne di Turiacco è rimasto ferito seriamente intorno alle 18 mentre si trovava su un'altana in una zona impervia di Doberdò del lago come riferisce una nota del soccorso alpino esterologico regionale l'uomo era alle prese con la pulizia e piccole sistemazioni sulla torretta di avvistamento collocata nei pressi della strada sopra l'abitato di Iammiano quando una transenna ha ceduto facendolo così precipitare al suolo da un'altezza di circa 7 metri nell'impatto l'uomo ha riportato traumi definiti gravi il soccorso alpino informa che è stato lo stesso ferito ad avvisare gli amici chiamandoli con il cellulare questi poi hanno provveduto a chiamare il numero 112 sul posto è dunque arrivato l'elissoccorso sanitario regionale pochi minuti dopo anche le squadre di terra della stazione del soccorso alpino di Trieste l'81enne che è rimasto sempre cosciente è stato stabilizzato dall'equipe medica trasportato dai tecnici con la barella nella raduna in cui era atterrato l'elicottero caricato a bordo del velivolo e condotto all'ospedale di Udine in codice rosso sul posto sono giunti anche i carabinieri e l'ambulanza di Monfalcone vediamo ora le nostre flash news dovrà scontare sei anni di carcere per tentato omicidio il diciannovenne il costovaro che il 12 ottobre del 2019 a Trieste aveva ferito gravemente con due coltellate all'addome e al torace un diciassettenne di Cervignano il fatto di sangue era venuto lungo la scala dei giganti alla vigilia della barcolana e aveva scosso la città inizialmente le indagini si erano concentrate su un quindicenne nordafricano che si era autoaccusato del fatto condannato successivamente a tre anni e otto mesi per concorso in tentato omicidio per il diciannovenne invece è arrivata l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato da futili motivi alla famiglia del ragazzo ferito costituitasi parte civile è stato riconosciuto un risarcimento di 30.000 euro è stato sanzionato questa mattina il titolare di un bar di via Vittorio Emanuele a Pordenone il quale si è fatto fotografare nella giornata di ieri all'interno del proprio locale dietro il bancone mentre si abbracciava con i propri dipendenti non facendo rispettare sul luogo di lavoro le disposizioni in materia di distanziamento individuale al proprietario dell'esercizio commerciale è stata così notificata una sanzione da 400 euro i carabinieri della stazione di Trieste Porto Nuovo durante un servizio di pattuglia hanno arrestato una ragazza di 29 anni di Monfalcone per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno fermata in una via del centro la ragazza ha subito manifestato un atteggiamento nervoso e poco collaborativo che ha allarmato i militari è così scattata la perquisizione la donna deteneva due grammi di cocaina già gravata da numerosi precedenti penali creati di varia natura è stata condotta nella propria abitazione in regime di arresto domiciliare a disposizione dell'autorità giudiziaria in regione rimane alta l'attenzione al rispetto delle disposizioni per il contenimento del covid-19 ieri prima giornata delle aperture della fine dell'obbligo delle autocertificazioni per gli spostamenti in Friuli Venezia Giulia a fronte di 2468 controlli sono state sanzionate 20 persone sono state invece 13 le denunce per altri reati 7 le persone positive sorprese fuori dal proprio domicilio tutte denunciate positivi invece i controlli all'interno degli esercizi commerciali che confermano il pieno rispetto delle normative vigenti a fronte di 1.156 verifiche infatti non si sono registrate irregolarità sono arrivate le linee guida per l'organizzazione dei centri estivi che anche a Udine non mancheranno lo ha assicurato l'assessore Battaglia le modalità e i numeri però saranno inevitabilmente diversi intanto nella riunione di oggi la giunta comunale ha stanziato 122.000 euro per l'acquisto di strumenti per la didattica a distanza allora sentiamo l'assessore Battaglia abbiamo deciso di stanziare i 122.000 euro dei progetti ad hoc appunto agli istituti scolastici sia pubblici che paritari della nostra città per l'acquisto di materiale a supporto della didattica a distanza perché ci siamo resi conto nella prima fase emergenziale che molti studenti erano sprovvisti di strumentazione tecnologica e risultava difficile riuscire a seguire la didattica a distanza o anche semplicemente i compiti da fare a casa in una prima fase siamo riusciti a consegnare i compiti cartacee alcuni tablet che già erano a disposizione delle scuole a favore degli alunni e studenti più in difficoltà questo ci ha aiutato a capire quale fosse il giusto canale contributivo abbiamo cercato di mettere in campo tutte le azioni possibili per andare incontro agli istituti scolastici e di riflesso naturalmente anche agli alunni e alle famiglie alle famiglie assessore che in questo momento si chiedono ci saranno i centri estivi non ci saranno allora la cosa è ancora in via di definizione però cosa possiamo dire scattando una fotografia in questo momento cosa vediamo? Beh innanzitutto sono arrivate le linee guida le abbiamo attese con molta impazienza finalmente le linee guida sono arrivate e ci permettono di progettare in maniera più precisa e puntuale i centri estivi sì i centri estivi del comune di Udine si faranno stiamo preparando tutti i moduli per quanto riguarda le iscrizioni che saranno già operative dalla prossima settimana per cui i centri estivi si faranno in una nuova modalità sicuramente perché parliamo di aggregazione di momenti di socialità dei bambini ma non dobbiamo dimenticare la sicurezza e la salute perché non dobbiamo permettere una ripartenza dei contagi per cui si svolgeranno in forma sicuramente diversa rispetto all'anno scorso soprattutto per quanto riguarda i numeri perché le linee guida sono molto precise e chiare indicano un rapporto di piccoli gruppi per cui insomma andremo in questo senso però i centri estivi si faranno partiranno in maniera regolare come gli anni precedenti adesso stiamo cercando di accelerare un po' i tempi perché ci rendiamo conto delle necessità delle famiglie la giunta comunale ha anche stanziato 100.000 euro per le iniziative di Udine Estate ne abbiamo parlato con l'assessore Cigolotto abbiamo appunto approvato oggi l'avviso pubblico che stanzia 100.000 euro a sostegno dei progetti che queste associazioni della città vorranno presentare parlo di associazioni per dire in generale vorranno presentare da realizzare nel periodo giugno-ottobre perché vogliamo fare un'estate molto lunga per allietare per incuriosire per far sì che dopo questo lungo periodo di chiusura i nostri concittadini abbiano la possibilità di avere innanzitutto il piacere di ritrovarsi pur distanziati e certamente ma abbiano anche il piacere di gustare dei momenti di intrattenimento di cultura che purtroppo sono mancati in questo periodo quindi una serie di manifestazioni che interesseranno il centro storico pensiamo di allestire come sempre su nel piazzale Patria del Friuli del Castello un grande palco lì pensiamo anche di realizzare degli spettacoli cinematografici all'aperto il teatro nuovo organizzerà un altro palco nei pressi della struttura in via Trento ma anche sicuramente qualcosa in via Mercato Vecchio sicuramente sotto la loggia del Lionello sicuramente nei quartieri nei posti che sono stati indicati anche dai presidenti dei consigli di quartieri che io ho incontrato in videoconferenza alcuni giorni fa quindi abbiamo tutta una serie di iniziative di organizzazione adesso stiamo definendo e poi su questa si calerà la proposta ripeto delle varie associazioni della nostra città che sono molto come dire vive e dinamiche e che scalpitano per ritornare a proporsi ai nostri concittadini e noi vogliamo dare loro questa possibilità veniamo ora allo sport perché è arrivato il sì del comitato tecnico scientifico al protocollo sanitario modificato e dunque è arrivato il via libera per la ripresa degli allenamenti di gruppo in serie A non sono più obbligatori i maxi ritiri e in caso di positività non ci sarà interruzione degli allenamenti ma isolamento del singolo con tutta la squadra che andrà in isolamento fiduciario potendo comunque continuare ad allenarsi lo ha annunciato il ministro dello sport Spadafora che ha anche fissato per il 28 maggio la data in cui in un vertice con i presidenti di Lega e FIGC ed Alpino e Gravina sarà decisa la sorte del campionato intanto in casa Udinese domani si leggerà attentamente il protocollo e si faranno ovviamente le valutazioni del caso l'ok tanto atteso è arrivato il CTS ha validato il nuovo protocollo per gli allenamenti di gruppo che a questo punto potranno partire già da domani ad annunciarlo alla RAI il ministro Spadafora è un'ottima notizia gli allenamenti collettivi possono riprendere prosegue sono state fatte valutazioni puntuali e la FIGC è stata disponibile a rivedere la sua prima proposta sono stati fatti dei chiarimenti su tempi di quarantena e in caso di positività e soprattutto si evita il famoso auto isolamento iniziale in caso di nuove positività quindi le squadre potranno continuare ad allenarsi il singolo andrà in isolamento sino al perdurare dei sintomi e fino a quando non ci sarà esito negativo di due tamponi da svolgere ad almeno 24 ore di distanza l'uno dall'altro mentre come si legge nel paree del CTS tutti gli altri componenti del gruppo squadra saranno sottoposti ad isolamento fiduciario presso una struttura concordata con la valutazione clinica del medico sociale e tampone anche rapido ogni 48 ore per due settimane nessun componente del gruppo potrà avere contatti esterni pur rimanendo consentito il proseguire degli allenamenti Spadafora ha poi anche fissato il D-Day nel 28 maggio quando ha convocato una riunione con il presidente Figgici Gravina quello di Lega d'Alpino entro quella data si avrà il quadro chiaro e saranno decisi in quella sede le sorti del campionato sul cui format non è voluto entrare nel merito evidenziando solo che la serie A al di là di play-off e play-out va iniziata per essere portata a termine il ministro si è tolto anche dei sassolini dalla scarpa per le tante critiche ricevute ribadendo di non essere stato mai un nemico del calcio sulla ripresa anche il presidente Aici Tommasi è stato chiaro servono quattro settimane di allenamenti veri e in tal senso l'Udinesi allora leggerà il protocollo nelle prossime ore e domani deciderà di conseguenze il da farsi intanto oggi ha proseguito con il lavoro individuale a più turni visto il pieno ritorno al lavoro dei giocatori in isolamento ed anche dei cinque portieri compresi primavera Gasparini e Carnelos che hanno svolto come gli altri il programma è comparso anche il pallone ma rigorosamente solo per lavori di tecnica individuale il tutto sotto lo sguardo di Gotti e del professor Bregnardello Gotti che domani pomeriggio terrà con alcuni membri dello staff una lezione in videoconferenza al corso allenatori di Coverciano sul modello udinese e le metodologie di lavoro applicate ad allievi d'eccezione quali solo per fare alcuni nomi Pirlo e Samuel è arrivato ora il momento di vedere assieme le prime pagine disponibili fino adesso abbiamo innanzitutto il giornale che apre così aumentano i prezzi guerra tra poveri ripartenza assalata più cari beni essenziali dal bar al parrucchiere colpa del governo che non dà soldi ai negozianti e poi i berlusconi imprese senza risorse continuiamo e abbiamo libero ormai i magistrati si arrestano tra loro far west nella giustizia il procuratore capo di Taranto è domiciliare indagato anche quello di Trani i PM di Potenza gli accusano di corruzione e provavano ad aggiustare processi ancora andiamo sulla verità mani pulite nella giustizia la manovra per favorire la nomina di Cascini al procuratore aggiunto di Roma è solo l'ultima delle rivelazioni sul mercato delle toghe al CSM ma il ministro Bonafede fa finta di nulla e anche oggi scamperà la sfiducia grazie alla pura di Renzi di andare alle elezioni corruzione in atti giudiziari è arrestato il procuratore di Taranto indagato l'ex di Trani così la vicepresidente della NM si dava da fare per il marito appunto in posizione alta il foglio in evidenza in rosso l'ora di un bazooka di ottimismo leggiamo queste parole nella prima pagina e poi ad accompagnare queste parole in evidenza in rosso il successo della BTP Italia il whatever it takes europeo il tonfo sovranista le notizie sul vaccino il ritorno del calcio giugno l'esempio delle imprese tedesche la fase 2 sarà tosta ma gli anticorpi per la ripresa ci sono ragioni per non essere pessimismi sul fatturo si fa presente dunque in questo titolo del foglio ecco abbiamo finito dunque le pagine a disposizione vi rimando come sempre all'appuntamento con la nostra rassegna stampa che inizierà domattina alle 7 grazie per la vostra attenzione e vi salutiamo con Cade Oggi il 19 maggio 2013 l'Udinese di Francesco Guidolin è protagonista di una grande prestazione sul terreno del Meazza contro l'Inter è l'ultima di campionato l'Udinese reduce da 7 vittorie consecutive che le hanno consentito di salire dalla nona alla quinta posizione quel giorno a Milano l'Udinese vince per 5 a 2 una gara senza storia l'Udinese domina l'11 nerozzurro dal primo all'ultimo minuto va in vantaggio dopo appena 50 secondi con Muzzi raddoppia con Domizzi un colpo di testa poi l'Inter accorcia le distanze con Ian Jesus ma poi ci pensa di Natale con un gol splendido un tiro a giro di destro che fa secco il portiere Andanovic Udinese 3 Inter 1 in pratica è fatta e poi l'Udinese Maramaldeggerà e segnerà ancora due reti contro una dell'Udinese andranno a bersaglio per i bianconeri anche Gabriel Silva e Muriel mentre la seconda rete dell'Inter è firmata dall'attaccante Rocchi l'Udinese dunque consolida la quinta posizione che le consente di accedere all'Europa League a Grazie a tutti.